RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale, ascoltaci. Senza il passato non esiste il futuro, Radio Staff, il ponte tra ieri e oggi. Sei in ascolto di RDA Radio 1, circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Sei all'ascolto di Radio Ballerina One, la numero uno.